è bravissimo come si mette in posa lo so, è coperta da questa ragazza no 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 vai stai registrando come terzo palo ci presentano la rumba a 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